Oggi iniziamo questi festeggiamenti in onore della Vergine Santissima Adolorata tanta amata in tutta la nostra città di Marsala ed è bello anche che la nostra comunità parrocchiale della Contrada Adolorata e così abbia questo titolo io ne sono fiero, ho sempre avuto una grande devozione alla Vergine Santissima Adolorata perché proprio ai piedi della croce nasce la Chiesa e Gesù ci ha dato sua madre come nostra madre È un momento particolare, lei nel corso dell'Omelia ha ricordato Mare di Isaleo Sì, ecco con grande dolore ho preso questa notizia mentre mi trovavo fuori sede e sono stato colpito da questa tragedia Prima pensavo che era molto più lontano da noi invece questa volta ha colpito la nostra città è come una spada che trafigge il cuore di tutti i marsalesi per questo evento ma la misericordia di Dio credo è su tutti gli uomini il Signore non giudica ma ama e accoglie i Suoi figli nel suo regno Sì, è una festa religiosa ma diventa anche una festa per tutta la comunità civile credo che abbiamo sempre più bisogno di modelli in una società smarrita anche per quanto si diceva credo che crollano le ideologie, crollano i riferimenti principali ma un ideale forte c'è sempre che bisogna portare anche da un punto di vista culturale nella nostra società per cui anche da primo cittadino sono qui a supportare questa iniziativa oggi durante l'Omelia, anzi la Brigade Fedeli si diceva Signore insegnaci da male io credo che a proposito di quanto è accaduto dovremmo interrogarci su questa capacità di lavorare sulle buone relazioni Sì, diciamo che è un momento molto particolare, molto intenso che diciamo siamo abituati a fare a porte chiuse però quest'anno abbiamo deciso nel commemorare l'ottantesimo anniversario proprio di fare questa vestizione in pubblico diciamo l'emozione più grande sarà ancora di più il 17 perché proprio la Madonna verrà portata in spalla dopo l'ultima volta che è stata all'incirca negli anni 70 quindi ritorna proprio nell'ottantesimo questo momento particolare questo momento intenso di vedere Maria tra le strade della comunità parrocchiale che viene portata a spalla diciamo che le emozioni sono sempre tante perché Maria già da 200 anni ci regala e regala a questa comunità parrocchiale sempre delle grandi emozioni invitiamo tutti, invitiamo tutta la città di Marsala anche perché sappiamo che Marsala è città e territorio quindi permette in tutte le contrade come in questa di avere questa parrocchia a lei dedicata quindi invitiamo la città di Marsala a partecipare a questi eventi che ci saranno durante la settimana e anche alla processione dell'addolorata proprio per chiedere anche per le proprie grazie per le proprie necessità Grazie Grazie Grazie